carissime amiche carissimi amici buongiorno al vostro caro giochere lune che oggi vi porta phantom fury phantom fury un prodotto un nuovo che strizza l'occhio ai titoli del passato inizieremo mentre stiamo parlando di uno sparatutto in prima persona dai toni futuristici pensate un pochettino iniziamo una nuova campagna mettiamo la difficoltà normale e confermiamo la nostra scelta iniziamo a vedere cosa ci offre pensate un pochettino questo fantastico phantom fury la ragazza col col braccio di ferro vedete un pochettino cosa sta accadendo il grande professore al grande professore arrivato ma il bello di phantom fury è proprio questo il fatto che non si sente niente vedi 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 c'è il braccio il braccio di ferro vedi un pochettino perfetto il grande generale il grande generale che ci sta dicendo tantissime cose interessantissime senti il grande generale il bello di phantom fury che nel momento in cui tu togli praticamente l'audio praticamente nota di questa parte qua ci dice il generale corri corri con me viene a zappare viene a zappare anche tu che è successo una bomba praticamente ci ha ripensato ci ha ripensato vediamo un pochettino iniziamo quindi grafica molto molto bella come potete vedere gioco oltretutto tutto in italiano è proprio in italiano il gioco vedete un pochettino andiamo a vedere gioco tutto quanto in italiano ecco qua perfetto apprisciinge perfetto andiamo a vedere il gioco in italiano finalmente il gioco in italiano vediamo un pochettino scatola di guanti che cosa vuoi fare con questa scatola di guanti che te li devi pigliare che devi fare nessun'arma nell'inventario ma perfetto scatola di guanti e cosa fai qui sopra ho capito un paio la pipì guanti 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 non posso via guanto che fatti giù certo il guanto per terra va bene va bene andiamo a vedere la stessa fatto qua di pigliare questi oggetti inutili si già non non mi piace nel senso che molto molto sicuramente gradevole la un motore grafico di gioco vedete un pochettino che cos'è il cesto della spazzatura questo provo ad aprire il cesto della spazzatura per fare cosa per fare cosa il laptop vedete un pochettino posso spegnere che devo fare è un po è perfetto perfetto che devo fare qua sopra non capito questa parte qua vedete un pochettino un po ridicolo su fatto qua secondo me mio parere personale con phantom fury dove si vanno a pigliare questo oggetto io questo oggetto cosa faccio quindi lo porto con me va bene va bene ragazzi il braccino praticamente per me ma qui sopra il braccino rompe praticamente quindi mi devo abbassare no ecco qua quindi devo passare qui in mezzo mamma mia se lo potevano risparmiare se cose totalmente inutili vedi un pochettino questo cosa vado ad abbassare pigliare il tablet il signore è rimasto qui vai all'ascensore trovo un'arma trovo un modo per superare le macerie perfetto vediamo un pochettino questa questa porta qua andiamo a pigliare a cazzotti col con il braccio bionico perfetto ci buttiamo dentro al cunicolone dentro al buco guarda qua arrampicata premi il tasto a premi il tasto a per saltare perfetto ancora il tasto a per saltare il grande tutorial ecco qua il cazzotto dappertutto cazzotto dappertutto quindi trovare un'arma per fare che cosa per cercare di sopravvivere vediamo un pochettino su queste casse guarda questo però a chiappo cazzotti dappertutto ah ti devi ricaricare prima di dare il cazzottone praticamente vedi un pochettino piglia la cassa piglia la cassa e piglia la cassa e la butto praticamente qui ecco qua col cazzotto che in realtà non fa mai male a nessuno vedi un pochettino devi premere praticamente questa parte qua ho premuto si è riassettata la porta perfetto andiamoci da questa parte qua quindi siamo ritornati dove stavamo prima perfetto quindi ho aperto questa parte qua e dove devo andare adesso il grande il grande scienziato il grande laboratorio penso un pochettino in un grande laboratorio il pito su cazzottone in falce e cerchiamo anche di capire che cosa fare il mouse ecco qua cotoletta che stava scritto lì sopra la cotoletta della signora ecco qua forse ci dobbiamo arrampicare da qualche parte possiamo interagire con gli oggetti premio il pulsante vicino alla porta e raccoglio una delle casse perfetto premio il pulsante vicino alla porta raccolgo le tasse e me la porto dove ragazzi forse qui sopra in mezzo a queste palle praticamente vediamo un pochettino forse qui sopra possiamo salire vedete sta cassa praticamente boh ti butto questa cassa in mano ma forse mi serviva per fare qualche altra cosa ok sono passato di qua un po' brutta rilla e si avete capito avete capito praticamente vedete sta cassa vedete un pochettino buttiamo la cassa qui sopra e la ragazzo deve poi dopo vedete la ragazza la nostra cara amica deve andare praticamente vedete un pochetto fatto qua della cassa non è che mi piaccia tanto potevi fare un gioco un po più lineare praticamente vedi un pochettino come è fatta quindi butto la cassa qui sopra cerco di salire sopra la cassa ho delle difficoltà vedi delle difficoltà proprio quindi poteva farlo praticamente in un'altra maniera ma perché farlo in questa maniera che senso ha ragazzi ecco qua bravo l'intelligenza di questa donna è arrivato Oksana Jevrokova ragazzi salutiamo la cara Oksana che ovviamente è così la cara Oksana piglia a cazzotti i pugni vedi dappertutto siamo entrati qui sopra un altro essere umano praticamente il chipper il chipper quindi premiamo qui sopra vediamo un pochettino che cosa fare ecco qua i terminali possono tenere operazioni informazioni interagisci colori abbassa la scala tuta protettiva che però non la va a pigliare me la identifica solo ed eccolo qua la grande palla praticamente pensate un pochettino la grande palla e guarda qui guarda l'uomo l'uomo con il bombolino senza bombolino praticamente molto triste questo qua questa parte qua andiamoci nel qui sopra vediamo un pochettino che cosa possiamo fare sta succedendo qualcosa di particolare ragazzi perché è un gioco un gioco che sicuramente mi fa comprendere determinate cose vediamo vediamo ragazzi andiamo a vedere perché perché stiamo sempre giocando questa parte qua la L'Oxana Gevrokova gli piace questo 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 gioco L'Oxana Gevrokova ragazzi dobbiamo dire la verità teniamo sempre il pugno in faccia praticamente questo coso praticamente vedete il cervellino il cervellino vediamo un pochettino GDF DOS 66 MHz e 66 MHz e ora te lo faceva girare questo gioco dobbiamo dire la verità molto triste era triste praticamente la ragazza per i suoi grandi fatti va bene signori proseguiamo ovviamente per questa parte qua vediamo un pochettino i treni possono conto le operazioni informazioni interagisce con loro e abbassa la scala ho attivato il terminale vedete un pochettino quindi che devo fare devo fare delle cose delle cose praticamente vediamo un pochettino è molto triste molto triste questa parte qua molto triste questa parte qua vedete un pochettino il grande il grande ok rubinetto quindi possiamo accedere praticamente a tutte queste parti qua e andare ovviamente a cercare di capire determinate cose ci serve l'arma pigliata la palla pigliata la palla che devo fare ah perfetto possiamo questo caldo è ridicolo ok perfetto grandi storie inutili tendenzialmente di cui non ci interessa niente vedete ok tutta la struttura ok perfetto ma fatta questa cosa qua amico caro cala ok ok vedete un pochettino cosa sta succedendo non lo sappiamo cala cala ok perfetto ma vediamo un attimo che cosa possiamo fare eccolo qua il grande vedete ragazzi che cosa stavo facendo una grande operazione una grande operazione abbiamo buttato via il registrone perfetto andiamo da quest'altra parte qua vediamo se possiamo fare qualche altra diciamo portare avanti qualche altra situazione piglio la scatolona ma in realtà la scatolona poco mi serve ragazzi i cazzotti dappertutto e ho capito i terminali mi dico però secondo me un gioco così è troppo dispersivo non è un titolo cioè vado qui vado a pigliare i guanti cioè mi dispiace mi dispiace perché poi ovviamente stiamo parlando stiamo parlando stiamo parlando sì ok perfetto tutto quello che vuoi però è troppo poco intuitivo che è successo qui da sola è scoppiato qualcosa ma è troppo poco intuitivo troppo tempo a perdere per che cosa per combattere quando si combatte ragazzi non mi puoi fare un gioco se non è così mio parere personale cioè non ci siamo non ci siamo mi dispiace sì ok esco di qua ma esco di qua a fare che cosa cioè vedi è proprio diventa un gioco inconcludente ma che senso ha fare questo questo tipo di situazioni guantini coniglietti qui per sopra le tutine che comunque non puoi usare ok perfetto quindi che devo fare inquadrare la palla ha l'hamburger dentro che senso ha ma secondo voi una persona mette un hamburger dentro la schiena aperta di una persona cioè ma vi rendete conto ragazzi è una sciocca cioè proprio è veramente una cosa ridicola cioè le bare bocce e quindi vado col microscopio e che cosa faccio cioè diventa diventa secondo me una presa per i fondelli vedete ragazzi per questo non cioè non è non serve diciamo bisogna avere anche un minimo secondo me di cervello nel senso per fare questi giochi che sicuramente non non vado non vado a non vado a cioè è veramente assurdo è veramente ridire ma che senso ha sta cosa cioè non non ci siamo non ci siamo non ci siamo non ci siamo vado davanti al computer ok perfetto carta assorbente perché per fare cosa cosa mi serve la carta assorbente sarebbe divertente secondo i programmatori di questo gioco prendere della carta assorbente che non serve a niente cioè diventa veramente una perdita di tempo ok perfetto finalmente abbiamo trovato una scala vediamo un pochettino se possiamo salire vediamo non sale non sale vediamo un pochettino ah perfetto con la scala quindi devo addirittura interagire con eh sì salte all'indietro alla Luciano Caldore perfetto ragazzi quindi che devo fare quindi mi devo abbassare mi devo abbassare entrare praticamente qui dentro uso la torcia ok per fare che cosa per il cazzotto e poi non ho capito guarda ci trovo un'arma praticamente ci entriamo qua dietro quindi carino eh alastore non tanto non tanto perché lo reputo troppo dispersivo devo dirti la verità troppo troppo dispersivo scusa la store devo rispondere a un messaggio e quindi sicuramente è bello dal punto di vista grafico però non ci siamo da un punto di vista diciamo proprio come puoi vedere del gameplay eccolo qua mamma uo il cazzotto in faccia lo va a distruggere addirittura che sei e che sei mamma mia mamma mia sì sì grazie grazie figurati dalla store ecco qua sì ebbene infatti e arriverà arriverà ragazzi arriverà 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 perché perché qui sopra sta succedendo tutto di più vabbè ah finalmente il manganellone il manganellone ciao mi saluti lea fazenda sitoe cara lea fazenda come stai benvenuta sul canale del giocherellone dove si parla di tutto video giocando e ti saluto ti saluto perché è giusto salutarti è giusto salutarti e mi fa piacere salutarti oggi ti porto un grande gioco un grande gioco sulla carta un grande gioco sulla carta un grande gioco sulla carta vedete ragazzi ebbè stiamo facendo il ballettino ecco qua con la store vedete un pochettino qui sopra anche ecco qua ragazzi vedete stiamo parlando di questo giocone di questo giocone sicuramente simpatio la tua prima arma usa la per distruggere le casse e l'unità di ventilazione vedete distruggo le casse ma in realtà non serve distruggo queste casse qua ok perfetto ce la sta facendo vediamo un pochettino se possiamo entrare praticamente qui sopra e distruggere ma in realtà la cassa di ventilazione secondo me la poteva distruggere anche con Roberta Montalbano ciao ciao anche a te ehi non lo so non lo so alle 12 e 30 sono già 15 minuti in ritardo certo certo è normale vabbè ragazzi che dirvi comunque riprendiamo questo gioco molto particolare come potete vedere ci troviamo in questo punico non è che sta andando a male il mitico vedete lo poteva fare lo poteva uccidere anche anche con anche con ecco qua vedete ragazzi vedete un pochettino cosa sta succedendo Roberta Montalbano è arrivata Roberta Montalbano è arrivata vediamo un pochettino vedete un pochettino qui sopra ecco qua riprendiamo riprendiamo con questa scena ragazzi vedete un pochettino la scena ecco qua guarda che di grandi risate mamma mia questa poca ecco qua siamo a mamma ah il ragazzo viene proprio maciullato come potete vedere perfetto grandi risate per un gioco che tendenzialmente ci dice nulla che devi fare rompi la scatola praticamente da questa parte qua vediamo un pochettino che cos'è Fortnite 2 alla Montalbano ragazzi alla Roberta Montalbano andiamo a distruggere che cosa gioco veramente ragazzi mi dispiace perché ha delle potenzialità questo titolo veramente incredibili dobbiamo dire la verità delle potenzialità veramente incredibili che però non non mamma mia ragazzi guardate un pochettino ah perfetto perfetto tante cose perfetto pugni in faccia dappertutto vediamo un pochettino che cosa sta succedendo la grande leva premi LT ah per elettrificare ah quindi ma la grande intelligente vai via e chi sei dove sei dove sei dove sei mamma mia ragazzi e guarda come se ne scappa guarda come se ne scappa è stato elettrificato il ragazzo chi sei tu eccolo qua guarda guarda ma ma finalmente si combatte finalmente si combatte è arrivato ecco qua Lorenzo continui a giocare leone ricco non è ricco purtroppo ricco poi non so cosa intendi per ricco sicuramente arrivo a fine mese Alessandro Arcangelo caro Alessandrino mamma mia guarda appena arrivato il coca demon avete capito il coca demon sarebbe il riferimento ovviamente a doom ma ragazzi questo titolo aveva delle potenzialità incredibili dobbiamo dire la verità però purtroppo io sto vedendo delle cose molto tristi devo dire da Oksana Gebrokova dice gli piace ad Oksana Gebrokova questo gioco la nostra cara amica russa pensate un pochettino che arriva arriva da lontano addirittura dice che gli piace dice che gli piace io lo trovo un pochettino diciamo un pochettino un pochettino ma dove siamo qui sopra chi è che ha sparato oh mamma mia eccolo qua sta crollando tutto ma è fatto molto bene appunto il motore grafico però è triste perché triste perché guarda il medico che vedi un pochettino il medico che è morto qui sotto è fatto molto molto bene ma non 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 manganello stordente vedi è fatto molto molto bene questo gioco ma non beato te che hai soldi che io non ho ma i soldi in che senso i soldi Lorenzo Monti non riesco a capire tu cosa intenda per soldi nel senso che ho le mie entrate perché lavoro ecco qua ma non è che a qui posso mettere il tastierino numerico vedete un pochettino devo muoverlo qui sopra e metterla ma dai ma come puoi ma che noia ecco qua c'è noioso un gioco così ragazzi mi dispiace davvero mi dispiace davvero poi Lorenzo continui ovviamente è sui quindi dovrei prendere adesso delle informazioni da dei dati per avere accesso un'altra porta è scocciante secondo me un gioco così scappa da sotto e va all'ascensore peccato davvero perché il motore grafico sicuramente è qualcosa di veramente bello bello un grande riferimento sicuramente agli anni 80 ma è mai possibile ma secondo voi adesso vado a mettere il codice che oltretutto col joypad diventa molto molto scocciante da inserire e dopo lo vado a pigliare questo codice quindi devo abbassarmi andare a pigliare il codice mamma mia triste sei pieno ti puoi permettere tu no Lorenzo Contini non mi posso permettere niente perché sono sempre ho iniziato a lavorare pensa io a 19 anni e dopodiché oltre che a mettere da parte ho sempre fatto una vita molto risparmiatrice quindi se per soldi pensi ovviamente che il mio reddito sia alto il mio reddito non è alto ecco qua però sono non sono mai arrivato in debito a fine mese non mi sono mai fatto debiti ecco qua non sono mai andato in debito quindi non e questo mi fa mi fa sicuramente grande elogio Alessandro Arcangelo ha scritto una cosa su Napoli che però non posso leggere vedete ragazzi molto triste questa cosa qua perché inserisco il codice ma il codice ovviamente non va perché non conosco il codice questa cosa ovviamente è brutta fa di questo Oksana si è roto all'anguria che spacciate per l'Italia 9 tonnellate sequestrate lo so Alessandrino forse forse il grande amico qua ha il codice non lo so ragazzi vedete allora questo è uno dei classici esempi di giochi con motore grafico per esempio molto molto bello che però purtroppo mi dispiace dirlo si taglia le gambe da solo ma fai un gioco dove si prendono dove si prendono le armi si spara per dirti invece io adesso dovrei andare a cercare pensate un pochettino qui sopra dovrei andare a cercare un codice per aprire quella porta cioè per farvi capire ma avessi il codice alle mani cioè diventa cioè addirittura adesso torno indietro ma vi rendete conto vedete questo per esempio è un gioco fatto male ecco qua quindi cartelletta cosa sta scritto qua sopra non lo so dovrei prendere il codice forse da sopra da sopra al computer è proprio scocciante è un gioco che si taglia le gambe da solo vedete guardate un pochettino dove sto arrivando sto arrivando talmente tanto indietro che non so nemmeno io dove andare se mi hai andato dal pediatra a farti visare la pancia Lorenzo Contini dal pediatra ma forse quando ero piccolo ma poi io raramente sono andato dai medici Lorenzo Contini voluto stroncare assolutamente graficamente molto molto bello graficamente ci mancherebbe ma veramente ecco qua io vado qui sopra adesso andiamo sul laptop che fa lo spengo che fa è un punto interrogativo ma vedi ma si possono fare dei giochi così ma chi ha progettato questo gioco ragazzi mi dispiace dirlo perché prometteva prometteva veramente bene poi piglio l'arma ma fai un sondaggio Xana Gevrokova il sondaggio al momento non posso fare il sondaggio Xana Gevrokova però rimango molto triste per questo titolo che ti ripeto prometteva molto bene ma sinceramente almeno io mi sono bloccato ma non mi piacciono i giochi dove si fanno le cose inutili ecco qua se le cose sono inutili vanno bene se te sono cose inutili piglia i guanti sposta qua giochi a farti soldi gioco a farmi soldi io ho sempre messo a frutto gioco sempre messo a frutto tutte le mie passioni e ho sempre consigliato a tutti di mettere a frutto le sue le proprie passioni pensa che c'è il caro amico Alessandro Arcangeli che è un grande un grande newser il migliore news io non ho mai conosciuto un newser migliore di Alessandro Arcangeli e devo dirti la verità devo dirti al regista aspettate fiumi di scarico vabbè a parte la parolaccia che sinceramente non gradisco ecco qua posta aggiornamento la dirigenza ha chiesto la struttura è il codice dove non c'è un codice del salsiccio ecco qua e quindi ho sempre detto alle persone di mettere a frutto le proprie passioni perché è giusto così quindi il mio canale per esempio è monetizzato io piglio veramente pochissimo al mese dal canale ma pochissimissimo lo si vede anche dai numeri non è facile fare dei calcoli su questo calcola che poi le mie principali visualizzazioni sono legate agli shorts o alle live non sono legate ai video detto questo questo per farti capire proprio nemmeno un euro al giorno penso un pochettino però è una mia grande passione diciamo visto che la vita si vive deve essere vissuta intensamente sicuramente se posso ricavare anche un centesimo lo vado a ricavare perché così mi è stato insegnato chi sa fare una cosa deve essere deve 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 praticamente chi sa fare una cosa deve deve metterla a frutto inutile che ci giriamo intorno perché farla gratis in un sistema consumista e capitalista quindi questa cosa sicuramente l'ho sempre consigliato a tutti e sempre lo consiglio a tutti quindi farti soldi sui giochi anche anche un centesimo sul gioco se si può fare si deve fare perché la società in cui viviamo una società consumista e capitalista e quindi non bisogna senza alcuna ombra di dubbio non sfruttare le proprie passioni perché dalle proprie passioni può derivare poi dopo un lavoro allora stroncato assolutamente ma io gli do un 5 un 5 sicuramente il motore grafico vale però non posso bloccarmi oltretutto all'inizio gioco senza il codice la tua faccia non la fai mai vedere e ti sbagli perché sto in live proprio con la videocamera ovviamente tu stai vedendo la live dal cellulare ecco qua vedi perché Lorenzo Contini a volte non bisogna giudicare senza sapere cioè sono in live su Twitch con la videocamera e tu ovviamente dici la tua faccia non la fai mai vedere ma oltretutto questa cosa se tu fossi stato sicuramente più attento sia alle parole che oltretutto fossi stato più attento anche ai video stessi avresti saputo che io lo dico sempre che andate nella sezione video per vedere il video completo mi dispiace solamente per questo gioco che sicuramente forse non meritava le attenzioni che gli stiamo dando forse perché vedi un pochettino si va a bloccare nel senso che questo è il tablet cioè possiamo avere accesso al computer ma non al tablet va bene ragazzi che dirvi mettete sempre a frutto le vostre passioni giusto in merito al discorso di prima lo dico sia ai giovani ai meno giovani cioè agli adulti che agli anziani non fatevi non fatevi sminuire dalle persone invidiose che invece di fare vanno a dire solamente tu ti fai soldi tu guadagni tu hai soldi ma seguite le persone di valore le persone che dicono continua così pegliate Oksana Gevrokova vedete che vi motivano ecco qua quindi lasciate stare gli invidiosi ragazzi vi lasciate stare gli invidiosi oppure se ovviamente fate un lavoro anche di streamer eccetera anche col pubblico ecco qua un lavoro col pubblico fare lo streamer è anche per passione o per lavoro è sempre avere a che fare col pubblico cercate sempre di mantenere una buona educazione anche da chi ovviamente vi viene a dire delle cose per attaccarvi in base ovviamente a delle gelosie perché alla base c'è il fatto che egli vorrebbe fare ma non può fare perché non è che non sa fare non ha voglia di fare perché tutto si può imparare avete visto che belle rime che fa il giocherellone mentre vi fa le live quindi mi raccomando mettete a frutto le vostre passioni e farete sempre una bella vita lasciate stare i criticoni e i critichella ecco qua criticoni e critichella non ci interessano no? voi lo sapete ne ho parlato tante volte vabbè ragazzi voto basso mi dispiace questo gioco poi se voi riuscite a portarlo avanti e lo finite ovviamente andate andate me lo fate sapere anzi nei commenti fatemelo sapere nei commenti così casomai mi vido ovviamente io dove ho sbagliato detto questo il canale giocherone come voi ben sapete principalmente su youtube e su twitch dove potete iscrivervi potete abbonarvi in modo tale da supportare il canale e farlo crescere sempre di più per portare prodotti di qualità potete condividere il video commentare attivare la campanina per avere tutte le notifiche e poi ovviamente ragazzi che altro potete fare potete addirittura abbonarvi al canale cosa che vi consiglio di fare così supportate il canale ma allo stesso tempo evitate di vedere le pubblicità su twitch l'abbonamento su twitch addirittura è gratuito pensate un pochettino se avete amazon prime e in più potete abbonarvi su youtube ci sono vari livelli di abbonamento per tutte le tasche detto questo gli altri social network del giocherone trovate nel box informazioni addirittura quindi sono il gruppo di whatsapp telegram discord appanile facebook blog tiktok c'è veramente di tutto e di più di tutto e di più detto questo se volete comprare uno 207 gadget del giocherone in tre varianti lo potete fare vi basta cliccare in box informazioni e poi sul negozio e in più in più pensate un pochettino potete potete allora Oksana Gebrokova se hai l'abbonamento di amazon prime hai l'abbonamento gratuito a un canale su twitch basta andare su twitch e avere praticamente abbonarti al canale del giocherone non devi pagare niente così potrai vedere il gioco in multipass 16 noni di formato video videocamera chat incorporata audio e video di altissima qualità detto questo ha detto questo e potrai addirittura evitare di vedere le pubblicità su twitch quindi abbonati al canale perché così non sprechi l'abbonamento se ti piace ovviamente al canale del giocherone detto questo potete addirittura comprare giochi come questo a prezzo scontatissimo se avete ovviamente se avete ovviamente cliccate sul link di Stan Gaming e detto questo se volete comprare i miei libri pubblicati su amazon cliccando nei link che trovate nella descrizione del video potete farlo pensate un pochettine e potete addirittura leggerli gratuitamente se avete amazon candle al limite dei ragazzi caro Alessandro Arcangelo a dopo Oksana Gebrokova a dopo ragazzi vi saluto mi dispiace per questo gioco che è stato io abbandono abbandona va bene adesso io chiudo anche la lave perché mi sono scocciato nel senso che giro in zonzo peccato perché non so dove andare ma soprattutto non ho il codice per entrare mi dispiace di questo gioco perché graficamente mi aveva molto attirato e poi effettivamente motore grafico molto corposo 5 minuti di pausa e torno di nuovo con voi perché il vostro gioco del lune non vi abbandona mai ciao